Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi, giovedì 9 febbraio, questa è Fano TV sul canale 17 in tutta la regione Marche per la lettura dei quotidiani del resto del carino Corriere Adriatico, le edizioni però della provincia di Pesaro e Urbino. Cominciamo dal santo di oggi, oggi è una santa, una santa alla quale potreste anche ricorrere se avete problemi ai denti o comunque di origine dentale. Allora, è Santa Pollonia Vergine e questa santa, stiamo parlando di una santa del III secolo nata ad Alessandria d'Egitto, dunque è patrona dei dentisti e di coloro che soffrono per patologie dentarie. Il sole è sorto alle 7 e un quarto e tramonterà alle 17 e 30. Vediamo il tempo, il bollettino della protezione civile della regione Marche, che per la giornata di oggi e per la giornata di domani, come vedete dalla grafica in animazione, prevedono, questo bollettino prevede insomma tempo perturbato, sia oggi che domani c'è anche un'allerta meteo per piogge intense diffuse soprattutto nel pomeriggio, in particolare nei settori collinari e montani. C'è anche la neve, il limite è attorno ai 700 metri nel settore centro-settentrionale e attorno ai 1000 metri invece in quello meridionale della regione. Le temperature sono in aumento. Per la giornata di domani non cambia granché, c'è soltanto una schiarita intorno nella seconda parte della giornata, perché le precipitazioni continueranno infatti anche domani mattina, saranno diffuse a carattere di rovescio, in progressiva attenuazione dal pomeriggio e poi andranno ad esaurirsi nella serata. Anche qui la neve domani, intorno ai 1000 metri al nord e 1300 metri al sud della regione. Temperatura ancora in aumento, soprattutto nei valori minimi. Attenzione ai venti che saranno di brezza tesa nelle zone interne, nord-orientali lungo la costa centro-settentrionale. Ok, poi saranno in rotazione progressiva del vento verso nord-ovest dal pomeriggio. Per quanto riguarda la giornata di sabato, dopo due giorni di pioggia arriverà il sereno, comunque non avremo sole pieno, ma rivedremo il sole. Le temperature saranno però in diminuzione, i venti in nord-occidentali di brezza tesa. Dunque, per quanto riguarda quest'area anticiclonica, ci consentirà almeno per qualche giorno, compresa la domenica, di avere tempo stabile e dunque di non vedere comunque la pioggia. Allora, detto questo, cominciamo con i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico, la pagina di Fano. La città si scopre con meno nascite, un po' più vecchia e forse più fragile. Questo è il quadro che servirà ad elaborare anche il nuovo piano regolatore generale. In futuro, sempre più immobili saranno inutilizzati. Dunque, c'è questa espansione demografica che è ferma e c'è un calo d'attrattività. Un processo che da due anni è stato favorito anche dalla crisi economica. Crise economica, dalle tasse che sono sempre altissime. Sorge l'esigenza di rimodulare i servizi sanitari e integrare una società multietnica. Sotto invece, sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, si parla di questa pubblicità, di questo cartellone che è stato messo lì per il carnevale che debutta, lo ricordiamo, domenica. A Fano c'è un carnevale che fa la pubblicità, un fast food. È polemica, il maxicartello ha scatenato ConfCommercio con Renzo Capecchi che chiede il rispetto di quell'area. Siamo nella zona del Pincio, quindi area storica. Adesso la Eagle Aviation, le turbulenze che hanno coinvolto e stanno sconvolgendo l'aeroporto di Fano. Adesso la Eagle Aviation lascia Fano, così l'aeroporto finirà per chiudere. L'amministratore Cecchini dice che Santorelli non è proprietario di SIA UOS, ma i documenti rivelano il contrario. Dunque, il dato di fatto, la notizia più importante è che questa società se ne va da Fano, la Eagle Aviation Academy, e dunque la scuola di volo sarà trasferita a Rimini. Non solo dicono gestiremo Rimini e la scuola di volo, all'estero un aeroporto, ma non si esclude il bando ENAC. E adesso i 5 Stelle chiedono la commissione d'indagine, apprezzano l'azione di Fano Fortuna, ma cercano le responsabilità politiche. Invece a San Lazzaro, in particolare, in Via della Repubblica, a Fano, si sgretolano i tetti in Eternit. Li vedete in questa fotografia, ci sono questi garage, questi capanni, nel quartiere di San Lazzaro, che a suo tempo, insomma, questi erano tutti gestiti dall'Erap, case popolari e quant'altro, insomma, adesso si stanno sgretolando e, insomma, l'Eternit non è un granché. L'appello adesso dei residenti di questi alloggi popolari è che dicono, qui a San Lazzaro è una polveriera di amianto. Ancora dal Corriere Adriatico, sull'altra pagina, quella della Valle del Cesano, terre roveresche nel futuro con pagamenti e servizi online, adesione al progetto regionale che prevede una disponibilità di 2,8 milioni di euro. E ancora, la Corte di Re Carnevale omaggia Fano in anteprima, la festa a San Michele il 19 febbraio, ma c'è una trasferta, quella di domenica, perché questa associazione cesanense è stata invitata domenica a sfilare proprio al Carnevale di Fano. Ecco perché c'è questo anteprima di questo Carnevale, proprio che da San Michele al fiume, dunque, si trasferisce in parte al Carnevale di Fano. Da Senigallia dobbiamo lasciare la casa, non sappiamo come fare. Un incubo per una famiglia che è composta da padre, madre e queste due figlie, una addirittura con una disabilità del 75%. Racconta questa 52enne senigallese che il marito purtroppo lavorava, adesso non lavora più, ha perso il lavoro, così come tanti. Prova a fare il muratore saltuariamente, prende qualche centinaio di euro al mese, io vorrei lavorare, se qualcuno potesse aiutarmi. Insomma, poi racconta, dice, abbiamo due figlie, una con disabilità al 75%. E poi da Falconara invece, guardate, caccia ai mercanti di squillo, task force per i controlli. Sulla Flaminia ragazze romene e nigeriane, i trans invece sono brasiliani, l'età delle prostitute va dai 20 ai 30 anni. Prosegue l'inchiesta dopo l'espulsione della ventenne, si ipotizza un giro internazionale. Mentre una donna, sempre a Falconara, voleva farla finita, voleva togliersi la vita, è stata rintracciata e salvata, era in stato confusionale sulla spiaggia di Falconara, adesso è ricoverata al torrette di Ancona. Riecco gli agguati a luci rosse dell'esibizionista irreducibile, invece a Filottrano, un uomo di 40 anni, si abbassa i pantaloni in strada, di fronte a una donna di 60 anni del posto, inizia a toccarsi, la poveretta scappa inorridita e chiede aiuto ai carabinieri, il fatto è successo ieri pomeriggio alle 18 nella zona del campo sportivo, ancora non sono riusciti a rintracciare e non sanno ancora chi è. Fanno saltare invece il bancomat con il gas a Monte San Vito, in fuga con un bottino da 40 mila euro, un assalto alla BCC di Borghetto, i banditi oscurano le telecamere di sorveglianza. A Pesaro invece la scommessa sul turismo è quella di riaprire sei alberghi che sono attualmente chiusi, non solo dunque l'Hotel Principe, ma anche il Vienna, l'International, il Lido, l'Aurora e lo Sporting. L'assessore delle noci dice abbiamo parlato con le imprese, tutte sono interessate ad investire nelle strutture. Poi ancora, il lupo morto, siamo a Borgopace, siamo vicini alla confine con delle marche, lupo morto nel bosco, il sospetto adesso è del veleno, il giovane esemplare non presenta infatti delle ferite, è stato rinvenuto a Borgopace, ci sono delle indagini chiaramente da parte dei carabinieri forestali, nella stessa zona, in passato diversi cani sono morti per bocconi avvelenati. E poi da Urbino, a Urbino ancora il tema dell'Ersu, il PD si schiera, la riforma va rimandata, il capogruppo Sestili dice meglio prendersi il tempo per tutti i necessari correttivi, si allarga dunque il fronte dei perplessi verso la proposta di legge sul riordino degli enti per il diritto allo studio. E questo è il Corriere Adriatico. Adesso il resto del Carlino, che in prima pagina invece, guardate, mette le interviste fatte al mercato ortofrutticolo dove la gente ha le prese con frutta e verdura a prezzi altissimi, tant'è che il titolo è molto chiaro, l'oro dei campi, cioè prezzi davvero da gioielleria, ortaggi in vendita a prezzi folli dopo il grande freddo, viaggio nei mercati tra commercianti preoccupati e clienti esasperati. Questa è la prima pagina. Andiamo in quelle interne e partiamo da Fano con la notizia sull'aeroporto, la palla ora passa alla magistratura, la D, l'amministratore delegato della società Fano Fortuna conferma l'esposto, intanto spunta anche un elicottero. La vendita della quota camerale rischia di slittare in là nel tempo. E sotto invece troppi litigi, la Eagle Aviation sbatte la porta, la società sta valutando di trasferire la sua scuola di volo a Rimini. Ci sono in retroscena, l'amministratore delegato Davide Cecchini dice da troppo tempo i nostri nomi vengono gettati dentro le battaglie politiche. Davide Cecchini lo vedete in questa immagine, questa fotografia di fronte ad un aereo. E questa è la pagina di Fano. Poi la Proloco, siamo sempre sul Carlino, la Proloco reagisce. Perché tanto odio? Lucarelli e lo scontro con la Confcommercio. Offesi centinaia di volontari. La posta in palio. Stiamo parlando di una visita guidata alla città. Insomma, una cosa da nulla. E dunque lui dice, rimango basito, vorrei capire se le accuse mosse da Confcommercio alla Proloco di Fano, frasi che offendono centinaia di persone che lavorano a titolo gratuito per il bene della città e per devolvere soldi in beneficenza a chi ne ha bisogno, sono state dette sulla spinta dell'emotività o se davvero queste cose le pensano. E allora, qual è l'antefatto? Per farvi capire, soltanto, ecco, leggiamo qua, la Proloco annuncia una giornata in cui spiegare ai negozianti le bellezze fanesi, perché diventino anche loro ciceroni con i loro clienti. Sono cose che succedono anche in giro per il mondo quando voi andate, ma tanto, adesso per fare un esempio, cioè, chi va a Roma, nelle grandi città, gli stessi tassisti sono dei ciceroni, no? Quando memmano che vi portano per la città vi dicono, qui, se trovate i tassisti, una volta ce n'erano a Roma straordinari, erano un film, tanti film ci hanno fatto, sui tassisti ciceroni. In questo caso l'hanno fatto con, noi non abbiamo tanti taxi, la città si gira anche a piedi e quindi si può fare anche con i commercianti. Però Confcommercio replica stizzita, la Proloco fa, dice, politica opportunista alle spalle degli stessi commercianti fanesi. È tutta da capire, sta polemica, sinceramente non ci ho capito un granché. Allora, andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino, siamo in chiusura velocemente, allora il Carnevale sale di tono e ora anche il suo cd, brani firmati da artisti fanesi e addirittura c'è una canzone firmata da un'artista cubana. La Prefettura impone sei soli barchi per il centro, qui si parla anche dell'impianto di sicurezza che è stato predisposto per quanto riguarda la prima giornata di Carnevale che ci sarà appunto domenica. Poi, invece, per i peccati di gola, oggi è il caffè del pasticcere e il maestro Ceresani presenterà il dolce dell'edizione 2017. Questa è la notizia sul Carnevale che appunto ci sarà domenica. L'ultima pagina è quella di Urbino. Volete capire la riforma? Allora leggetela. Il consigliere del PD, Renato Claudio Minardi, risponde al Rettore, al Sindaco e agli amici di partito. Nessun rinvio per ridefinire il rapporto con il territorio. Il 14 si andrà diritti al voto in aula. Con questo ci fermiamo qui. Occhio ai giornali torna domani mattina come sempre alle 7.30. Stasera invece alle 20.30 c'è il telegiornale. Occhio alla notizia. Mi raccomando le vostre segnalazioni sempre importanti al 338 49 68 250 anche con Whatsapp. Grazie a tutti.